Ciao a tutti, oggi è l'ultimo giorno di gare e in gara c'è lei, Vittoria. Prima di guardare il video vi ricordo di mettere un bel like e di iscrivervi al canale. Abbiamo appena iniziato il riscaldamento. Quanti anni hai Vittoria? 10 Quanti anni hai che fai ginnastica? 12 Sei contenta di essere qua? Hai paura? No No? Bene, bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il riscaldamento è terminato e adesso andiamo in gara. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.